Buongiorno, il capitolo 1 di Marco continua e ascoltiamo il racconto della guarigione di un lebroso da parte di Gesù nei versetti dal 40 al 45. È un incontro intimo, toccante, commovente. Fuori dal villaggio dove un lebroso deve stare perché è un impuro, uno che non può entrare in contatto con l'altra gente, un luogo quindi di isolamento, di solitudine, Gesù si ritrova a creare una relazione, a stabilire un contatto che per la verità è evoluto da questo lebroso che lo cerca e si getta in ginocchio e con una preghiera umile si rivolge al Signore. Se vuoi puoi guarirmi. Che bella questa preghiera, quanto abbiamo bisogno di farla nostra. La preghiera umile di chi ha fiducia perché sa che Gesù può ma allo stesso tempo non pretende, chiede, supplica. L'umiltà è questa apertura all'altro per ricevere il dono che gli è e allo stesso tempo è la certezza che questo dono è possibilità, è apertura al futuro. Eppure non può essere preteso proprio perché è un dono. Gesù si lascia toccare e commuovere la sua misericordia, si manifesta e per restare dentro l'incontro toccando anche quest'uomo e facendosi quindi carico della sua impurità, egli lo invita a non andare a dire a nessuno quello che è accaduto e piuttosto di rivolgersi alla comunità, ai sacerdoti, per essere riconosciuto e integrato di nuovo, sanato fra gli altri. Gesù non vuole essere messo in mostra, non vuole diventare motivo di vanto, non vuole che la gente lo cerchi perché fa dei prodigi e dei miracoli. Gesù desidera un incontro profondo, la guarigione del cuore, l'uscita dall'isolamento, dalla solitudine. Gesù non vuole essere inneggiato egli stesso piuttosto che ciascuno attraverso lui trovi vita, vita in abbondanza. Il lebroso non tace, proclama quello che è accaduto e Gesù è costretto a rimanere fuori dal villaggio e così diventa lui in qualche modo come il lebroso. E perché è questo quello che fa Dio? Si mette ai margini pur di stare vicino a chi ha i margini e se c'è bisogno ne prende il posto. E quello che farà Gesù sulla croce è prendere il posto di tutti noi per pagare le conseguenze del nostro peccato. Questo fa Dio, così è il nostro Signore. L'umiltà con cui ci rivolgiamo a Lui è solo una risposta all'umiltà del nostro Dio, così profonda da far sì che Egli prenda il nostro posto non solo come uomo, ma come condannato, innocente, per pagare il prezzo del nostro errore. Tutto questo ci salva e ci guarisce dall'impurità più grande e ci rende liberi. A noi la scelta di dire di sì e aderire a questo dono gratuito. Buona giornata. Buona giornata.